buongiorno buongiorno con le stelle rubrica astrologica a cura di monica marillis buon inizio di settimana e buon lunedì quindi cari ascoltatori di quest'angolo dedicato alle stelle agli astri inizia appunto una nuova settimana io sono monica marillis e questo è il nostro appuntamento quotidiano con le stelle abbiamo appena trascorso un weekend con la luna in vergine e quindi spero piacevolmente affacendati in questioni concrete in cose da fare magari qualcuno avrà fatto un po la cenerentola visto che la vergine è un po la cenerentola dello zodiaco sempre intenta a pulire e a mettere a posto ma oggi la luna è entrata entra in bilancia alle nove e cinquantacinque quindi diventa una luna sicuramente un po più leggera più votata alle relazioni sociali al prendersi cura degli altri e non solo magari nel pulire le case ma alle relazioni diamo segno per segno come viene vissuta questa luna per l'ariete si tratta di una luna in opposizione e quindi potrebbe scompigliare un po l'umore degli arieti soprattutto con questioni di puntiglio gli arieti si buttano sono volonterosi però insomma le lune in bilancia le persone che potrebbero rappresentare nella loro vita questa luna in bilancia possono invece mettere i puntini sulle i e irritare un po gli arieti per i toro questa luna in bilancia a parte il fatto che si tratta di due segni governati dagli stessi pianeti venere e x eris questa luna non è particolarmente interessante il toro comunque è diciamo sottoposto a diverse tensioni perché c'è marte in opposizione dal segno opposto c'è urano sui gradi in questo in questo momento urano e 11 gradi del toro quindi sta passando è retrogrado quindi sta tornando indietro nei gradi della dell'inizio della seconda decade e c'è anche una due quadrature che subisce dall'acquario da parte di saturno e giove quindi insomma nonostante i begli aspetti di venere e plutone dal capricorno che quindi possono dare comunque delle gratificazioni soprattutto dal punto di vista edonistico affettivo però gli toro sono anche un po sotto pressione per quanto riguarda magari responsabilità preoccupazioni e anche qualche conflitto soprattutto se appartenete all'inizio della terza decade per i gemelli invece questa luna in bilancia è una boccata d'aria fresca già i gemelli sono messi sufficientemente bene possono dormire tra due guanciali diciamo i gemelli nonostante l'opposizione del sole e di mercurio dal sagittario soprattutto per quanto riguarda la prima decade che potrebbero rendere i nativi un po un po distratti un po con alcuni sbalzi d'umore ma per il resto se la cavano abbastanza bene i nostri amici gemelli il cancro con la luna in bilancia invece potrebbe subire qualche alto e basso morale e abbattersi per delle piccole cose da niente soprattutto questioni però che riguardano sempre le relazioni questioni di principio ecco potrebbero avere qualche momento d'abbattimento ricordiamo che i cancri subiscono l'opposizione di venere e plutone venere è arrivata al diciannovesimo grado del capricorno quindi sta cominciando a influenzare chi è nato alla fine della seconda decade e all'inizio della terza passiamo ai leoni e i leoni hanno un gran piacere da questa luna in bilancia è una luna in buon aspetto per loro e riesce a risollevare il morale per i prossimi due giorni quindi i leoni avranno voglia di divertirsi vedere persone e non pensare alle grandi e piccole responsabilità che gli sono arrivate negli ultimi mesi soprattutto e quindi hanno scombussolato un po la loro vita per i vergine la luna in bilancia non è particolarmente significativa meno che non abbiano dei pianeti nel contiguo segno della bilancia potrebbe essere benissimo che abbiano mercurio o venere e oppure anche altri pianeti però è più facile diciamo che i pianeti veloci siano nello stesso segno nel segno precedente o nel segno successivo a quello del sole e ovviamente gli amici della bilancia possono anche loro tirare un bel sospiro di sorlievo con la luna nel loro segno per i prossimi due giorni sicuramente avranno voglia di sbagarsi di vedere persone di organizzare delle dei piccoli momenti conviviali dove appunto poter chiacchierare in libertà e essere stimolati dagli amici e loro ne hanno gran bisogno scorpione scorpione anche non risente né beneficia particolarmente di questa luna in bilancia lo scorpione anche va un po ad alti e bassi in questo periodo c'è marte nel segno ancora appunto marte è arrivato al ventesimo grado dello scorpione quindi sta entrando nella terza decade e quindi dà una bella carica energetica di rivitalizzazione che può prendere un po tutti gli ambiti di vita anche la sfera erotica soprattutto e però subisce anche la quadratura di saturno giove dall'acquario quindi c'è qualche momento di pesantezza o qualche momento di sconforto di abbattimento ma allo stesso tempo anche altri supporti come venere plutone dal capricorno come nettuno dai pesci insomma tutto sommato i pro sono più dei contro per gli scorpioni e arriviamo al sagittario sagittario a sole mercurio che stanno passando nel segno in questo momento entrambi sono a sette gradi del sagittario quindi stanno ovviamente rivitalizzando la rivitalizzazione annuale in questo caso la prima decade e la luna in bilancia aggiunge una bella ventata d'aria fresca quindi i prossimi due giorni per i sagittari e soprattutto oggi per quelli della prima decade saranno veramente sarà una giornata particolarmente piacevole leggera fresca senza grosse preoccupazioni o grossi intoppi tra l'altro anche saturno e giove che giove è il signore del sagittario e rappresenta l'abbondanza la fortuna la capacità di visione proiettata nel lontano e saturno che è struttura che è capacità di costruire sono in buon aspetto al sagittario quindi gli danno anche gli strumenti per portare avanti progetti anche a lungo termine capricorno capricorno vede venere e plutone ormai venere si sta avvicinando alla terza decade è alla fine della seconda quindi porta un pochino di calore addolcisce un po i nativi del capricorno che sono sempre un pochino aspri la luna in bilancia però non è in buon aspetto al capricorno quindi potrebbe mettere sottolineare degli aspetti magari non ottimali diciamo che la bilancia come segno non è perfettino è preciso ecco quindi questa luna potrebbe proprio sottolineare quelle piccole cose che possono essere delle sviste però appunto è importante anche considerarle soprattutto per quanto riguarda i rapporti umani perché questo a volte è un po il punto debole del capricorno perché guarda alle è comunque un segno che è capace di grande etica di grande morale di grande stoicismo però a volte diciamo che può essere un po duro e schiacciare le persone soprattutto le persone più deboli e quindi questa luna in bilancia potrebbe proprio sottolineare per carli per il capricorno questi suoi punti un po deboli acquario l'acquario ovviamente va a gonfie vele con la luna in bilancia è una luna che esalta le caratteristiche del segno di capacità di collegarsi con gli altri di mettersi in contatto di creare delle relazioni le relazioni che possono essere anche un po opportunistiche ma che comunque aprono sempre delle nuove porte e la luna sarà tra l'altro in trigono a saturno un po più tardi nella giornata verso sera però è una luna quindi che esalta sia le capacità emotive che quelle razionali e delle persone soprattutto delle persone che appartengono ai segni d'aria quindi bilancia acquario gemelli ma anche del sagittario dell'ariete e del leone quindi i segni d'aria e di fuoco sono quelli favoriti in questo caso da questo aspetto tra luna e saturno che esalta anche l'intelligenza di questi segni da una capacità lucida di vedere le cose e le tutto quello che succede intorno e ora arriviamo ai pesci l'ultimo segno dello zodiaco la luna in bilancia non ha un grande impatto sui pesci e i pesci dal canto loro sono dei segni è un segno molto ben aspettato in questo periodo marte dallo scorpione forma un bel aspetto di trigono quindi da uno slancio una certa dose energetica di grinta di assertività anche ai pesci urano è dal toro è anche un buon aspetto quindi da anche questa voglia di fare di concludere di insomma da un certo attivismo ai pesci che di solito è un segno un pochino indolente quindi urano da una bella spinta verso l'azione e anche plutone venere dal capricorno addolciscono e danno anche soprattutto plutone per chi è nato alla fine insomma negli ultimi ormai negli ultimi giorni del segno da quella capacità profonda di guardarsi dentro e di capire di che cosa si ha bisogno e anche di capire un po le situazioni capirle al primo sguardo bene abbiamo fatto una panoramica di tutti i dodici segni per vedere che cosa porterà questa luna in bilancia ricordo anche che i temi cari alla bilancia sono la giustizia l'equità le questioni sociali e quindi ovviamente il rapporto con gli altri in generale ma vediamo ora torniamo a fare l'analisi dell'associazione tra sole e ascendente avevamo parlato del sagittario ascendente ariete due segni di fuoco quindi dove il fuoco era esaltato e parliamo oggi del sagittario ascendente toro invece è un segno di terra apparentemente non hanno molto in comune e invece una cosa in comune ce l'hanno questi due segni ovvero giove giove è il signore del sagittario che è in domicilio nel sagittario ed è esaltato nel toro quindi giove che il pianeta che corrisponde all'espansione quindi alla volontà un po di dominio e di anche però visione di tutto ciò che è lontano di programmazione e di sintesi e quindi si acquisce tra nel sagittario ascendente toro questo desiderio anche di vita confortevole e può diventare un sagittario un po borghese che si diciamo che invece che andare per orizzonti sconosciuti preferisce magari la vita un po più in pantofole in casa e quindi amerà sicuramente mangiare bene un buon gustario ma sicuramente questo ascendente acquisce il desiderio di contatto del sagittario e cerca un rapporto più empatico più a profondo con le altre persone meno superficiale meno compagnone meno amicone ma più magari più approfondito le preferenze professionali variano su un ampio spettro e questo ascendente può portare a interessi psicologici quindi poi i personaggi con questa combinazione possono diventare abili psicoterapeuti e la sua il suo interesse verso la psiche altrui però potrebbe portarlo a trascurare la propria di interiorità e quindi potrebbe essere un modo per sfuggire all'autoanalisi per quanto riguarda i contatti con gli altri avrà bisogno di rapporti ordinati e di relazioni stabili quindi sarà sicuramente tendenzialmente più fedele più stabile del sagittario che insomma non ha la nomea di essere molto fedele quindi lealtà e fedeltà acquistano grande importanza per questa combinazione sole sagittario ascendente toro e bene abbiamo concluso per oggi vi auguro un buon lunedì e un buon inizio di settimana e dopo il nostro buongiorno con le stelle continuiamo la nostra giornata con spirito alto e buona energia e vi ricordo che se volete un consulto astrologico mi trovate sul sito www.monicaamarillis.com oppure potete scrivermi all'email info chiocciola monica amarillis.com